E' stata eseguita questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Marino Gallarotti, 76enne di Nonio, deceduto venerdì all'ospedale Maggiore di Novara. Il PM Gianluca Periani ha affidato in tarda mattinata l'incarico al consulente della procura, la dottoressa Elena Barbero, che avrà 60 giorni di tempo per depositare la propria relazione. Gli esiti dell'esame saranno essenziali per stabilire se la morte del pensionato sia stata causata dalla colluttazione del 10 maggio scorso a Nonio con il 23enne Omar Piccoli in carcere da giugno. Il giovane era indagato anche per il reato di omicidio preterintenzionale. L'avvocato difensore Gabriele Pipicelli ha nominato come proprio consulente per partecipare all'autopsia il dottor Marco Scaglione di Milano. La famiglia di Gallarotti invece si è affidata all'avvocato Cristian Ferretti e ha nominato la dottoressa Carola Vanoli. Entro domani è atteso nulla ossa del PM per i funerali. Gallarotti sarebbe stato colpito da piccoli dopo essere intervenuto in difesa della ragazza con la quale il giovane stava litigando. L'anziano sarebbe poi caduto a terra procurandosi un violento trauma cranico.